La ritenuta pratica funzionale favorisce l'autonomia operativa e procedurale e velocizza sicuramente la verifica e il controllo delle varie attività amministrative. Mi permette, in qualsiasi punto io mi trovo in quel momento, di gestire e tenere d'occhio la situazione sia dal punto di vista della gestione del personale, i registri degli insegnanti e gli avvisi che mi vengono segnalati come avvisi importanti. È un'applicazione che ci aiuta a comunicare meglio con i docenti, con la segreteria e con le famiglie. Operare in qualsiasi parte si trova per poter vedere e verificare e gestire tutte le informazioni relative sia alla didattica, sia al personale, sia alla contabilità, ma anche gestire eventuali richieste di permesse, di assenza, da qualsiasi parte del mondo si trova. Quindi veramente è molto facile, agevole e positive, avere la scuola in una mano, dove vedere tutto, essere presente sempre in ogni momento, partire dall'aggiornamento, orizzonti scuola, di cui è previsto anche un accesso immediato. A disposizione del dirigente scolastico adesso c'è un applicativo che è perfettamente usufruibile anche su smartphone e tablet, con il quale c'è sotto controllo tutto ciò che avviene alla scuola. Veramente rende la vita del dirigente più semplice. La consiglio a tutti. Sicuramente la scuola in mano. Da acquistare perché è valido per tutte le istituzioni scolastiche. Argo ha effettuato la chiusura completa nel cerchio. Grazie di rito.